E' il per ultimo concorrente di questa categoria Open che si chiuderà con Cacciamani Rossano e Soluni e per di qui toccherà alle signore, alla categoria Lady, chiudere questa seconda tappa del Campeonato Regionale Marche Gincano Western a questa giornata di gare qui a Circolò di Piccola Corsa. Esco, Ivan si carica a Molla per effettuare la sua gara. Ecco la che parte, si distende ora dalla patta verso il fine del pole banding dove poi si inizierà con lo slalom molto vicino a Palima per la girata. Molto bella anche la girata di ritorno, ha eseguito molto bene fino a questo momento questo pole banding da parte di Ivan molto vicino ai pali, molto veloce, bei cambi di galoppo, ora siamo già sul porto per l'esportamento dell'oggetto. Viene effettuato molto velocemente, strettoia che procede al quadrato. Buona anche l'esecuzione del quadrato, mi sembra che ha fatto correttamente. Ora c'è la campana con il back, molto veloce nel back, molto molto eseguito, molto bene eseguito questo esercizio. Ora il cancello, tuttura e chiusura ricordiamo che è prevista per questa categoria. Bene eseguito anche questo, molto veloce, cambio di natura per le barrile a terra. Molto elegante, molto veloce anche qui, si distende per andare a effettuare il barrel. Tre uno barrile abbastanza veloce vicino al barrile, anche nel secondo bella virata, bella virata anche la terza. Allora si è presto a rifiutare il set pass a Elio. Ha iniziato molto molto velocemente, quasi al volo, ben più sui anteriori, molto molto bene eseguito. Adesso ha occupato molto tempo, buonissimo tempo il suo. Chiude con uno, 29 e 21. Uno, 29 e 21 per lui, vediamo un attimino quante penalità, una penalità per lui, quindi 5 secondi da aggiungere, la penalità qui al set pass laterale, che troppo sì, ma era molto veloce.